Sabato, il giorno prima di Pasqua, guardate qui, il treno se ne va, il treno se ne va da questa stazione a binario unico e appare la parte da me favorita, la sponda lecchese del lago di Como. Ma guardate, guardate che incantesimo potrebbe determinare nell'occhio visivo questo sguardo che porge in linea diretta a questo reverbero di sole dove nascere e morire ogni giorno a me un senso di eternità in nascere. Il sole che cala dietro la montagna ebbene illumina in questo momento serale la parte lacustre del lago di fianco questa ferrovia a binario unico. Io sono qua in questa stazione ferroviaria dove vi faccio vedere poi il nome, D'Orio, D'Orio. E ringrazio le persone che ho conosciuto nell'istante intorno alla stazione, nel retroscena di questa parte visiva ottica dove ho potuto parlare con tre persone che forse mi assicurano, forse un luogo abitativo, sebbene io sono un'eremita, mi piace essere a colloquio con tante persone perché ogni uomo, ogni essere umano ha un cuore come il mio occhio. Aldo, in questa parte splende intensamente in questo lago dove il mio io vive in continuazione dopo dopo giorno dopo giorno la continuità dell'essere attraverso tutto ciò che ci circonda. Aldo 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 Aldo